Previsioni meteo per mercoledì 12 agosto. Al nord, ancora bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati fenomeni diurni. Al centro, torna il bel tempo anche al centro, eccezione fatta per qualche isolato fenomeno diurno sulla Dolzalla Bruzzese. Al sud, tempo ancora instabile con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio temporale ma con tendenza a graduale miglioramento entrosera a partire dal nord. Venti, deboli o moderati dal nord-ovest. Mari, mossi a largo o comossi altrove. Temperature, stabili o in leggero aumento.